Ciao a tutti! Oggi parleremo di illusioni ottiche e in particolare il triangolo di Penrose. È una figura che non può esistere, ma vedremo come disegnarla. Per fare questo, un siamo amatico. Partiamo! Bene, adesso cambiamo qualche colore per dare tridimensionalità. Bene, questo è il prodotto finito. Grazie per l'attenzione e buon divertimento!